Top 10 Ma ora passiamo al ballo di gruppo del mese di Gennaio Ballo di gruppo del mese di Liscio.1 La coreografia di Enzo Bisbal e G7 di Sofia L'artista più attivo su www.liscio.1 è Edita Camisca Ora scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni Ho camminato nella versione di Renzo Biondi Mario Bischin con Macarena Al terzo posto c'è Bagutti, Lambertini, Lanteri e Tarantino con Siamo l'Italia che balla Tutta la gente fa festa Al secondo posto c'è DJ Berta con Primo posto per Ci diamo appuntamento alla prossima puntata Per scoprire quale sarà il primo classificato dei video da voi caricati su www.liscio.1 Alla prossima puntata Vi aspettiamo Ciao Ciao